Allora, ho l'onore e il piacere di presentare due ragazze, sono Marta e Amalia, speriamo di non sbagliare il titolo del gruppo, le Singer Girl, ho detto bene? Ho detto bene? No, ho sbagliato. Venite qua, venite, anche loro sono timide e timide. Allora, voi siete le... Singer. Singer. Ok, allora, parlateci un pochino di voi. Da quanto tempo suonate assieme? Un grande applauso per Amalia e Marta. Grazie. 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 Grazie.